Parlando alla festa degli unit di Roma, Maria Elena Boschi chiude le porte allo IUS soli. E' complicato trovare i numeri in Parlamento. Lo dico con dispiacere perci una legge giusta ed una legge equilibrata ha detto. Ma sappiamo che avere i numeri per approvarlo complicato. Se alle prossime lezioni il PDAVR una maggioranza numericamente P importante ha proseguito. Lo IUS soli sarà in cima al nostro programma.